nuovo video no momento sto per preparare il video si vogliamo farvi vedere cosa dobbiamo preparare per poter fare un video volete vedere tutto quello che dobbiamo fare l'attrezzatura quello che c'è da montare venite facciamo vedere grazie a tutti bene quindi dopo aver invaso la cucina di mia moglie avete visto cosa bisogna fare per poter creare un video inizio ciao